Siamo nella Valle dei Mulini con il professore Giuseppe Di Massa, alla scoperta di uno dei mulini più importanti e più rappresentativi per la storia di Gragnano, il mulino Lomonaco. Sì, questo mulino non solo è meglio conservato tra i tanti mulini della valle, anche perché è stato usato in tempi relativamente recenti, fino a dopo la guerra, in alcuni momenti per la mancanza di energia elettrica si è usato questo mulino e l'altro precedente della pergola per macinare i cereali, soprattutto per fare il pane, perché non c'era né pane né elettricità. Questi mulini funzionavano con delle macine orizzontali, quindi secondo una tecnologia largamente usata anche sul versante amalfitano, dove però si usava per l'attività della carta. Mentre invece sul nostro versante, gli amalfitani davano gli stracci con cui si faceva la carta bianca, davano gli stracci colorati che erano non adatti alla lavorazione della carta. e quindi sorse per noi qua un'attività, a fianco a questa molitoria, un'attività di tutto rispetto della fabbricazione dei panni, i famosi panni lana, che davano lavoro a moltissime famiglie, insieme a partire dal 400 dell'attività della seta. Quindi un'attività importante per secoli, questa della tessitura, che si affiancava a questa molitoria. Anche questa molitoria distribuita sui 25 mulini della valle, più un'altra quindicina distribuita in altri ponti del territorio, Gragnano forniva una buona parte della farina per i forni della città di Napoli, nei momenti in cui, stiamo parlando del 500 e del 600, Napoli aveva bisogno di un'enorme quantità di farina per i suoi forni. L'aria marina che viene da Castellammare arriva fino a qui, anche nei mesi estivi che non c'è, ci sono piogge, c'è una vegetazione lussureggiante di incredibile bellezza, perché è l'umidità che arriva dal mare, e quindi garantisce una presenza costante. Questo microclima particolare favorì l'asciugatura della pasta, che deve avvenire lentamente, con umidità costante, e altrimenti si spaccherebbe. E quindi si cominciarono a costruire i primi pastifici. A metà 800 e poco prima dell'unità d'Italia, Gragnano aveva quasi 100 pastifici, raggiungendo il numero massimo di 120 nel 1872.